Buonasera a tutti e tutte, io sarò brevissima anche perché penso che è stato veramente detto tanto oggi e credo che la linea rossa, il filo rosso che ha unito comunque la discussione di questa sera sia comunque un concetto di solidarietà. Una solidarietà che unisce le lotte, è una solidarietà che ad esempio per noi, quando siamo stati in Ucraina, ci ha permesso di poter poi riportare anche all'interno delle nostre collettività, all'interno dei nostri territori, la posizione, una posizione, la posizione di quelle persone che stanno effettivamente subendo l'invasione russa e la guerra in questo momento. Una posizione che non eravamo riuscite a leggere, non eravamo riuscite a vedere attraverso quella che è la narrazione mainstream, la narrazione dei giornali e quindi per noi abbiamo veramente capito come questa solidarietà sia anche appunto portare al di fuori, portare al di fuori queste idee, portare al di fuori questa posizione fortissima che è una posizione che ovviamente si pone contro un'invasione russa ma si pone anche contro un'invasione del capitalismo, contro l'invasione neoliberale, contro questa apertura e deregolamentazione del mercato. Quindi appunto non tanto un essere pro o contro una posizione ma nemmeno essere nel dire che c'è un buono e che c'è un cattivo, bensì dire che c'è un popolo, c'è un popolo che sta subendo tutto quello che sta succedendo e c'è un popolo che vuole, vuole assolutamente poter decidere per se stesso e c'è una comunità, c'è una collettività che sta resistendo e che si sta organizzando. E è stato veramente molto forte per noi, credo, vedere proprio perché esisteva anche prima una collettività di corpi che si uniscono, che resistono, che creano delle reti. È proprio grazie a questa esistenza, a questa collettività che anche Vitali e SocialNiruk sta riuscendo a fare quello che sta facendo, sta riuscendo a creare solidarietà interna perché appunto è proprio grazie al fatto di essere connessi al loro interno che riescono a capire quali sono le necessità quotidiane delle persone che vivono appunto anche andando e riuscendo a trovare anche degli altri canali che non sono appunto quelli istituzionali, che hanno appunto tutta una serie di problematiche che venivano descritte molto bene prima. Riuscendo poi invece anche a creare delle reti all'interno delle città stesse, delle reti di cura, delle reti di cura nel senso anche di supporto psicologico per tutte le persone che stanno subendo una guerra in questo momento e magari si ritrovano isolate, delle reti di cura per le donne che da un giorno all'altro si ritrovano poi a dover prendersi cura di una fetta ancora più grossa della propria famiglia e delle reti appunto internazionali, delle reti internazionali che poi tornano a noi e della nostra solidarietà, una solidarietà che appunto poi si esprime nel fatto sicuramente ad esempio della discussione che stiamo facendo oggi, della diffusione delle idee, di quello che loro ci hanno raccontato essere la situazione oggi, ma anche di una solidarietà che comunque parte dalle lotte che noi facciamo ogni giorno nei nostri territori. Appunto veniva citato anche prima e non possiamo non dimenticarlo che la guerra russa, l'invasione russa è stata finanziata dal fatto che tutto il paese occidentale dipende dai gas, dipende dal petrolio. Per anni sono stati dati tantissimi soldi alla Russia e in ogni caso anche ora sicuramente ci sono degli accordi, si sta cercando di trovare gas e petrolio da altri paesi, ma non sono sicuramente dei paesi migliori della Russia, sono comunque paesi in cui ci sono dei dittatori, non sono sicuramente dei paesi in cui questi soldi verranno utilizzati per il bene della popolazione, semplicemente si è spostato il problema da un'altra parte. Ma tornando a noi, appunto, quello che volevo dire era di nuovo appunto una solidarietà, come sono stati descritti molte volte credo questa sera nel dibattito che c'è stato, un'unione di lotte, di lotte locali. Noi appunto, tornate dall'Ucraina, tornate da Leopoli, ci siamo anche chiesti come poter poi anche riuscire a creare dei ponti che non siano appunto solo di concretezza e di aiuti, ma anche poi dei ponti di solidarietà da noi, dalle nostre collettività, dalle nostre località. Quindi appunto abbiamo, c'è stata l'occupazione della VAC a Venezia, la VAC che è la fondazione di un oligarcha russo di cui non ricordo il nome, ma che si chiama Leonid Michelson, il principale azionista di Novatec, che è la seconda industria di gas e petrolio più grande della Russia, un palazzo che si trova a Venezia e che esprime molto bene il fatto che non siamo assolutamente all'interno di una polarizzazione, all'interno di due imperi distinti, ma semplicemente ci sono due imperi che sono la stessa cosa, che hanno sempre convissuto, che si sono sempre supportati e appunto il fatto che ci sia un palazzo di questo tipo a Venezia ne è assolutamente la prova. C'è stata questa occupazione, c'è stata la manifestazione del 2 giugno, sempre a Venezia, dove appunto la volontà è stata quella appunto di creare questo tipo di connessioni, delle connessioni che partono dalle lotte territoriali, che vedono delle connessioni nelle stesse lotte che noi facciamo nei nostri territori con quelle che vengono fatte, in questo caso in Ucraina, ma potremmo fare un elenco infinito di tutte le altre lotte che ci sono in questo mondo.